Sto per arrivare in piazza San Lorenzo. Il monumento che vedete è dedicato a Giovanni delle Bande Nere, appartenente al ramo cadetto, secondario detto popolano, salito al potere all'estinguersi del ramo principale terminato con l'assassinio del duca Alessandro nel 1537. La scultura, commissionata da Cosimo I de Medici al Bandinelli, rende onore al padre l'unico condottiero di valore della famiglia. Il condottiero con la corazza romana è privo di elme e calzari, tiene in mano il bastone del comando. Inizialmente sarebbe dovuta essere collocata all'interno della Basilica di San Lorenzo, per questo lo scultore progettò il guerriero seduto, posa insolita per un condottiero ma venne collocato nel 1592 nella sala grande di Palazzo Vecchio e la monumentale base, la vera parte artistica del monumento, rimase a lungo nella Basilica. Nel 1812, per pubblica utilità, fu trasformata in fontana e collocata al lato della piazza. Il solo nel 1850 la statua vi fu posizionata sopra. I fiorentini conearono un epigramma a satirio. Messer Giovanni dalle bande nere, dal lungo cavalcar noiato e stanco, scese di sella e si mise a sedere.